Vuoi ritrovarla, Alice? Ma se mi denunci non lo saprai mai. Mai! Adesso io ho te. Diana è sua figlia Alice. La compagnia non si scioglie. Valentina mi ha raccontato tutto. Di come è nata la compagnia di danza, di te e di Alice. Sono io Alice. Io ti ho portata qui. Perché sono malata, Diana. E non è vero che devo fare degli esami. Regina è una figlia mia. Non tu. Diana è mia figlia. Che cosa senti tu con Petra, eh? Che cos'è che mi stai nascondendo? L'ho ritrovata. Lei ha detto. Sto cercando di farti capire che voglio una famiglia conti. per cui Emma Conti ed Enrico Leone vi dichiaro marito e moglie non è prima te amo mamma Grazie a tutti.